Innanzitutto è importante per la salute della mamma e ormai si sa che una bocca sana significa uno stato di salute generale sano, ancora più importante se una mamma aspetta un bambino. Si è visto infatti che le malattie del cavo orale della mamma influenzano pesantemente sia la gravidanza, per esempio malattie del parodonto o delle gengive, possono portare a esiti anche in fausti della gravidanza come aborti o come parti prematuri o possono comportare basso peso alla nascita del bambino. Inoltre patologie cariose della mamma possono trasmettere direttamente i batteri, i germi della carie al bimbo una volta che sarà nato e questo porta ad un aumento del rischio di carie dei denti da latte del bambino. Infine sappiamo, e questo è un argomento molto importante in questi tempi, che le patologie orali della mamma sia a carico delle gengive del parodonto sia a carico dei denti modificano pesantemente il microbiota della mamma che viene trasmesso al bambino sia in utero sia poi quando sarà nato e quindi questo condizionerà la sua futura salute orale ma non solo in realtà.